Avere un cane può essere una delle esperienze più gratificanti della vita, ma può diventare stressante quando il nostro amico a quattro zampe manifesta comportamenti inspiegabili, come la paura di entrare in determinate stanze della casa. Questa situazione può generare preoccupazione e confusione nei proprietari. Ma cosa spinge un cane ad avere queste paure? E come possiamo aiutarlo? Ecco alcune possibili spiegazioni e soluzioni. Memorie traumatiche Una delle ragioni più comuni per cui un cane può avere paura di una stanza particolare è un'associazione con un'esperienza traumatica. Se il cane ha vissuto un evento negativo, come un rumore forte o un incidente, potrebbe associare quella sensazione di disagio con lo spazio in cui è avvenuto. Stimoli sensoriali I cani hanno sensi molto più acuti rispetto agli esseri umani. Rumori ad alta frequenza che noi non possiamo sentire, odori sgradevoli o anche campi elettrici possono influenzare il comportamento del cane. Cambiamenti nell'ambiente Se avete riarredato o cambiato qualcosa nella stanza, il vostro cane potrebbe aver bisogno di tempo per abituarsi alle nuove condizioni. Anche piccoli cambiamenti possono essere stressanti per alcuni cani. Comportamento del padrone In alcuni casi, è il comportamento del padrone a condizionare il cane. Se siete nervosi o ansiosi, il cane può percepire il vostro stato d'animo e diventare a sua volta ansioso. Soluzioni Desensibilizzazione Uno dei metodi più efficaci per trattare la paura è la desensibilizzazione. Cominciate con brevi esposizioni alla stanza temuta, premiando il cane quando mostra segni di rilassamento, e aumentate gradualmente il tempo trascorso nella stanza. Rinforzo positivo L'uso di trattini e giochi può aiutare il cane a associare la stanza con esperienze positive, sostituendo quindi l'associazione negativa che potrebbe avere. Consulenza professionale In casi estremi, potrebbe essere necessario consultare un veterinario o un comportamentalista animale. Essi possono suggerire trattamenti come farmaci ansiolitici o terapie comportamentali specifiche. Pazienza e amore Ricordate, la chiave è la pazienza e l'amore. Con il tempo e l'approccio giusto, il vostro cane dovrebbe sentirsi più a suo agio nel suo ambiente domestico. In conclusione, se il vostro cane ha paura di alcune stanze, è importante identificare la causa sottostante e affrontarla in modo sensibile e scientifico. La consultazione con un professionista può essere preziosa per fornire al vostro amico peloso una vita più felice e senza stress. Grazie per aver guardato. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti per altri contenuti simili a questo. Resta sintonizzato per il nostro prossimo video.